Amedeo Nazari e la moglie sorridono ad Anna Magnani e la incoraggiano. Sembra impacciata la popolare attrice. È a tavola circondata da uomini di lettere che parlano in punta di forchetta. Meno impacciati di lei, Pierpaolo Pasolini e Marisa Merlini parlano in romanesco loro. Si festeggia l'assegnazione del premio Tor Margana ad Anna Magnani. Annarella è felice, brandisce la torre d'argento come una sfada fiammeggiante. Poi la mostra a suo figlio Luca perché ne sia fiero anche lui. E la fa vedere a Folcolulli ma forse per fargli rabbia. Una volta tanto paziente rassegnata la Magnani posa per i fotografi. Sembra addirittura la statua della libertà. Una statua della libertà a cui per fortuna manca la parola.